Musica Lo sport indubbiamente è un veicolo fondamentale per la coesione sociale e per la crescita sana ed in ambienti sane di tutti i nostri giovani, tutti i nostri ragazzi, oltre ad accompagnare ovviamente ognuno anche in età più avanzate. Per quel che riguarda l'attività della regione Marche è molto attiva in questo senso, il mio assessonato ha un'attività tra virgolette limitata perché non è che poniamo noi corsi di formazione legati alle attività sportive. Noi riconosciamo alcune figure legate alle attività sportive e in qualche modo siamo vicini, diciamo così, quando altri tipi di associazionismi come il CONI portano avanti insieme alle scuole, spesso insieme alle associazioni sportive. Ecco, se vogliamo coniugare un qualcosa che attraverso l'assessorato al lavoro posso incoraggiare è la vicinanza, diciamo così, dell'attività lavorativa alle tante società sportive presenti sul territorio. Voglio incoraggiare questa presenza, questo sostegno perché è fondamentale per la coesione sociale. Grazie per la visione!